Ecco Renato che ha quanti anni? Novanta anni. E quale ha cinque giorni? E vabbè cinque giorni. Allora noi fa l'ozono, c'è un po' di dolori. Allora la spalla, che è successa? Niente, a un certo momento mi dava una fastidio, faccia un po' di ginnastica, tirava un pezzo di canna, fa avanti e dietro e adesso è colato. Poi c'è stato un po' di mal di schiena e adesso non c'è più, poi c'era un po' di... Poi è passato, un po' di formicoli con i garibietti e adesso non c'è più. E quindi Renato, l'età di novanta anni e cinque giorni, fagli vedere adesso che succede. Come le ducchimi. Ma Diego? Eh, fagli vedere. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Tocco pure il paineto. Sì. Va bene così. E questo grazie all'Ozono che ci ha voluto seguire. Bravo, bravo, bravo. Grazie tante. Grazie.